E' salito a 7 il bilancio delle persone contagiate presso il presidio ospedaliero di Penne e dunque positivi al covid-19, tra cui il sindaco del comune Vestino Mario Semproni, il primo a riportare il contagio al nuovo coronavirus, un uomo di 69 anni residente a città Sant'Angelo ricoverato da giorni presso il reparto di medicina 2 dell'ospedale di Penne e poi trasportato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Santo Spirito di Pescara. Di oggi pomeriggio la conferma che anche la moglie del 69enne è risultata positiva al tampone del covid-19. Dai primi accertamenti per ricostruire i contatti e i movimenti pare che la coppia non abbia avuto nessun rapporto con persone provenienti da zone rosse e dunque la si sta studiando per capire se quello abruzzese possa essere un nuovo focolaio. Come detto tra i positivi al coronavirus c'è anche il sindaco di Penne Mario Semproni, dottore del reparto di medicina 2 che nei giorni scorsi è entrato a stretto contatto con il paziente ricoverato. L'ufficialità è arrivata tramite il profilo facebook del comune di Penne dove lo stesso sindaco ha voluto lasciare a tutti un messaggio sullo proprio stato di salute comunicando che si trova in isolamento presso la sua abitazione senza manifestare sintomi. Ho delegato il vice sindaco Vincenzo Ferrante, continua Semproni che guiderà il comune in mia assenza. Il virus non mi ha fermato e non fermerà la mia voglia di combattere per Penne e per l'interesse dei pennesi. Dobbiamo vincere questa battaglia, chiude il sindaco di Penne. Intanto dopo la sanificazione di tutti i reparti del nostro comune vestino proseguono i tamponi su tutte le persone che presentano servizio all'interno del presidio ospedaliero ma di questo pomeriggio la notizia che altri tre casi riguardano attrettante donne entrate in contatto con l'uomo ricoverato all'ospedale di Penne e sono risultati dunque positivi. Due sono ricoverate mentre una è in isolamento domiciliare. Gli altri risultati sono attesi però per le prossime ore. Mentre il risultato negativo al tampone l'uomo di 68 anni originario di Civitella Casanova che sabato sera era deceduto per una grave insufficienza respiratoria e che era ricoverato nello stesso reparto del paziente 1 di Penne. La questione coronavirus a Penne ha fatto rialzare vecchie polemiche tant'è che la FIALS, la Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanitarie, ha chiesto alla regione Abruzzo di compiere tutti gli atti previsti per salvaguardare il personale che a causa di questa situazione si trova ad effettuare turni stressanti ma soprattutto ha chiesto di poter riattivare l'unità operativa di rianimazione del San Massimo dove il materiale è nuovo ma che viene usato solo in caso di estrema necessità vista la mancanza di personale. Intanto a rendere la situazione molto più complessa di quanto già lo fosse arrivano i fabbricanti di fake news. Infatti è notizia di oggi pomeriggio come su gruppi whatsapp non solo del comune di Penne ma dell'intera area vestina stiano girando due note audio che annunciano l'imminente istituzione della zona rossa per il comune di Penne. Notizia immediatamente smentita dal comune annunciando che il responsabile sarà segnalato alle autorità competenti per procurato allarme. In un momento come questo è buona cosa prendere in considerazione solo le comunicazioni ufficiali che arrivano dal servizio prevenzione e tutela della salute della regione abruzzo